C'è un'altra domanda. L'amministrazione Castagna incapace. Il consigliere di opposizione di Nuova Casamicciola duro nei confronti della maggioranza. Non è in grado di amministrare il Paese. L'Acquameno, Carmine Monti, Fogne. Lavori eseguiti male e senza controlli. Per l'ex sindaco di L'Acquameno i lavori effettuati all'inizio di Corso Angelo Rizzoli hanno danneggiato l'immagine del comune del fungo. Forio duro scontro in consiglio tra il sindaco e Domenico Savio. Nell'ultimo consiglio comunale il consigliere di opposizione aveva proposto di discutere la segnalazione dei revisori dei conti per la mancata applicazione delle norme del codice appalti. Ma la maggioranza ha votato contro il confronto con Francesco Del Deo. L'olimpionico Gianni Sasso non finisce di stupire. Prima di arrivare a Rio 2016 aveva subito due operazioni per la frattura del bacino e di una caviglia. Angela Procaccini presenta Di come donna, presentato oggi pomeriggio alla Biblioteca Antoniana di Ischia, l'ultimo libro della professoressa napoletana Angela Procaccini e dopo il telegiornale appuntamento a teatro con la commedia a Cannunata di Mezziorno. Benvenuti al consueto appuntamento con informazione di Teleischi. Apriamo con Casamicciola. Il consiglio comunale ha approvato il riequilibrio di bilancio. Un documento contabile che ha una serie di lacune nei conti, contesta il consigliere di Nuova Casamicciola Luigi Mennella. Una delibera approvata per cercare di evitare di finire nel dissesto. Mi sono reso conto che il sindaco e gli assessori, dice Mennella, non sono in grado di amministrare il Paese. Sentiamo. Consiglio comunale a Casamicciola. Architetto Mennella, di cosa avete discusso? Abbiamo discusso principalmente del riequilibrio. Se parliamo degli argomenti all'ordine del giorno, poi ci sono stati i vari interventi sulla scuola e su altre problematiche che esistono nel Paese. Anche attraverso l'intervento delle mamme che si sono fatte sentire per quanto riguarda le problematiche del Manzone e del San Severino. Il consiglio comunale è stata una cosa bilente, le devo dire la verità, perché mi sono reso conto dopo anni di non avere delle interlocuzioni in grado di poter portare avanti la fattiva amministrazione del Paese. Il sindaco e gli assessori non sono in grado di amministrare il Paese. Questa delibera dell'equilibrio che è stata preparata anche da consulenti importanti, certamente ha tutta una serie di lacune, che io ho evidenziato in consiglio comunale, delle cifre che non rispondono alla verità. Sono state fatte esclusivamente per cercare di risolvere la problematica presso la Corte dei Conti, la Suprema Corte dei Conti, che dovrà emettere il verdetto dopo il 19 ottobre. Quindi questa delibera serve soltanto a cercare di evitare che il Comune vada in dissesto, ma ci sono tutta una serie di numeri che non corrispondono e di cui noi abbiamo chiesto lumi all'amministrazione, ma non sono stati in grado di spiegare niente. Di abusivismo edilizio si è discusso ieri sera nel Consiglio Comunale di Barano con l'intervento dell'Avvocato Bruno Molinaro. L'Avvocato Molinaro ha esordito chiarendo innanzitutto, perché nel documento della minoranza si sollevava anche tale questione, che qualsiasi strumento urbanistico locale, compreso il PUC, è da considerarsi recessivo e di rango inferiore rispetto al piano paesistico, strumento di tutela sovraordinato. Tale prevalenza è stata ribadita anche da una recentissima sentenza della Corte Costituzionale ed è comunque spessamente riconosciuta anche dal Codice Urbani, che all'articolo 135 prevede l'obbligo di adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni dei piani territoriali paesistici. Nella Regione Campania, prima dell'estate, è stato approvato un protocollo di intesa tra amministrazione regionale e ministero, finalizzato all'approvazione di un nuovo PTP, cui dovranno conformarsi tutti gli strumenti urbanistici dei comuni. Approvare dunque oggi un PUC, senza che sia stato aggiornato il piano paesistico esistente, ma non più adeguato alle nuove esigenze recepite dal Codice Urbani, appare un'inutile esercitazione con inopportuno dispendio di risorse economiche. Per quanto riguarda la tematica dell'acquisizione delle case abusive a patrimonio comunale, per Molinaro questa non è applicabile in zone soggette a vincolo paesaggistico, in quanto l'acquisizione è propedeutica all'abbattimento e quindi non è conservativa. Ieri pomeriggio la firma ufficiale per la nascita del flag tra i comuni dell'isola di Schieprocida e i soggetti privati che hanno già formulato la domanda di adesione. Le finalità sono di elaborare una proposta progettuale di tipo partecipativo, denominata Strategia di sviluppo locale, nell'ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca. Il progetto mira infatti ad attuare strategie per lo sviluppo locale della pesca e dell'acquacoltura, orientati tra l'altro a migliorare lo sfruttamento ambientale delle zone di pesca e a rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori. Possono candidarsi a ruolo di partner istituzioni, agenzie, organizzazioni, partner del settore privato ed associazioni. Lavori per le fogne ancora in corso all'Acquameno. Ancora adesso stiamo con Piazza Girardi in quelle condizioni, commenta l'ex sindaco Carmine Monti. Un pessimo biglietto da visita all'inizio del paese. Da qui si comprende quanta attenzione è stata posta dall'amministrazione comunale su questi lavori che dovevano essere completati entro dicembre scorso. Abbiamo avuto una marea di problemi sul mancato controllo dell'esecuzione delle opere. L'Acquameno ha avuto un danno di immagine. Sentiamo Carmine Monti. Si è chiusa la stagione turistica, fogne ancora aperte all'Acquameno. In effetti andavano chiuse entro dicembre appena trascorso. Ma questa è un'altra grande favola di questa amministrazione. Purtroppo hanno vanificato quello che è stato lo sforzo di progettazione e di reperimento dei fondi che feci io. Abbiamo avuto una marea di conseguenze negative sul non controllo dell'esecuzione dei lavori. Poi il fatto che ancora adesso noi ci troviamo con Piazza Girardi, cioè con il principio del paese combinato in quella maniera, la dice tutta su quella che è l'attenzione che hanno avuto questi amministratori su un'opera secondo me fondamentale per la nostra comunità. Un'opera fondamentale tra l'altro va detto che gli acquazioni estivi non hanno aiutato chi faceva i lavori. Ma guarda, meno male che gli acquazioni estivi ce ne sono stati pochissimi, perché veramente quelli che ci sono stati hanno messo in evidenza tutto il pre-sappochismo con il quale sono stati eseguiti i cantieri e hanno fatto le opere. Purtroppo siamo andati all'onore delle cronache, siamo stati un po' ovunque. Io penso che l'Acquameno ha avuto un ritorno negativo in maniera forte da parte di questa vicenda per quanto riguarda l'immagine e l'economia. Abbiamo fatto passi indietro da gigante, tant'è vero che purtroppo sono in tanti a dire che magari non torneranno più all'Acquameno. E questo fa male a sentirlo, soprattutto perché opera per la sua comunità da tantissimi anni. Ci spostiamo a Forio. Nell'ultimo Consiglio Comunale, duro scontro tra la maggioranza di Francesco Del Deo ed il consigliere di minoranza Domenico Savio. I revisori dei conti avevano segnalato la mancata applicazione delle norme del codice appalti sull'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori e l'amministrazione del Deo ha votato contro la proposta di Savio di portare l'argomento in Consiglio Comunale. Vediamo il servizio di Gennaro Savio. Nonostante all'ordine del giorno ci fosse un solo argomento, anche l'ultimo Consiglio Comunale di Forio è stato caratterizzato dai consueti e duri scontri politici tra il consigliere di opposizione Domenico Savio e la maggioranza amministrativa guidata da Francesco Del Deo. Nomina Collegio dei Revisori dei Conti è stato l'unico argomento posto all'ordine del giorno della seduta. Negli ultimi tre anni i revisori dei conti uscenti hanno più volte segnalato all'amministrazione e al Consiglio Comunale irregolarità nella gestione amministrativa dell'ente, tanto che nello stesso periodo hanno sempre espresso parere sfavorevole ai bilanci di previsione e consuntivi. L'ultima nota inviata dai revisori e notificata ai consiglieri comunali è del 19 settembre 2016, nella quale segnalano la mancata applicazione delle norme del codice appalti sull'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori. In particolare si riferiscono al servizio di pulizia degli uffici comunali, all'affidamento dei servizi cimiteriali e alla gestione del servizio smaltimento rifiuti differenziati. Domenico Savio, il rivoluzionario consigliere comunale di opposizione del partito comunista italiano marxista-leninista, nel suo intervento ha sottolineato la gravità delle osservazioni fatte dai revisori dei conti, che si riverberano negativamente sugli interessi della collettività. Al termine del suo intervento Domenico Savio ha presentato una mozione con la quale ha chiesto al sindaco e al presidente del Consiglio Comunale di porre all'ordine del giorno della seduta del prossimo Consiglio Comunale la nota del Collegio dei Revisori dei Conti unitamente a una proposta di delibera dell'amministrazione comunale per mettere immediatamente fine ai procedimenti irregolari rispetto alla normativa vigente. Ebbene, nonostante l'importanza sociale dell'argomento, i consiglieri comunali di maggioranza hanno clamorosamente votato contro la proposta di Domenico Savio e così in Consiglio Comunale non si potrà discutere delle segnalazioni fatte dal Collegio dei Revisori dei Conti. Che vergogna! Al termine della votazione con cui la maggioranza guidata da Francesco Del Deo ha bocciato la mozione di Domenico Savio, vehemente è stata la reazione del consigliere comunale, del PCML. Chi ha votato a favore si rende complice di questo mal governo del Paese e ne dovrà rispondere, non solo elettoramente ai cittadini, ma anche sul piano giuridico, perché la Corte dei Conti già si è attivata ampiamente su questo argomento. Non pensate di fare i padroni della cosa pubblica al volito. Più di 50 classi coinvolte, 54 incontri con 12 esperti, un totale di 2.508 studenti, 168 ore totali ed una serie di incontri con i genitori. Sono i numeri del primo anno di IEP, il progetto dell'associazione di volontariato Gabbiani Onlus che abbraccia la popolazione studentesca dell'isola d'Ischia. E con l'inizio della nuova stagione scolastica, IEP è ripartito puntuale dall'obiettivo di agevolare l'orientamento ed il riorientamento dei giovani schitani, affiancandoli con percorsi di coaching studiati in loro soccorso nei processi decisionali legati allo snodo dopo le scuole medie, con la scelta dell'indirizzo della scuola secondaria di secondo grado e al bivio successivo al termine del ciclo delle superiori con la scelta eventuale di un percorso universitario o con l'immissione nel mondo del lavoro. Fino al prossimo mese di maggio IEP continuerà a rivolgersi agli studenti schitani e attraverso percorsi di life coaching specifici rivolti anche alle loro famiglie. Donazioni di sangue. Molto spesso chi si accinge a donare il sangue ha dei dubbi sulle eventuali limitazioni. Per fare un po' di chiarezza e stabilire chi può donare e chi no, ogni quanti mesi è possibile donare, quali sono le circostanze che impongono un'astenzione, abbiamo intervistato il dottor Carmine Barile. Sentiamo. Può sempre donare dopo i 18 anni e fino ai 65, addirittura oggi fino da quest'anno fino a 70 anni nei vecchi donatori, cioè coloro i quali si sono sottoposti sempre periodicamente alla donazione. Quindi la maggior età, le donne possono donare due volte all'anno, i maschi possono donare quattro volte all'anno, con una distanza preferibilmente di 3-6-9, 90 giorni donazione da donazione, che è il ciclo che un globulo rosso impiega per riformarsi, per rigenerarsi, e la vita media di un globulo rosso dovrebbe essere di 90 giorni, se tutto va bene. Ci sono alcune controindicazioni? Ebbene sì. Chi non può donare? Non può donare chi sta facendo assunzione di farmaci, chi ha sofferto di epilessia o prende farmaci antiepilettici, chi è stato ammalato nelle ultime settimane, chi è stato sottoposto a tatuaggi, chi è stato in cura dal dentista. Cioè ci sono dei tempi per ognuna di queste, infatti c'è un formulario che ogni donatore sa che ogni volta a cui deve rispondere, dove ci sono delle indicazioni, se si è andati in zone a rischio malaria, a rischio febbre del Nilo, che anche in Italia ci sono delle regioni dove è stato indicato questo virus, questi soggetti devono aspettare determinati periodi per poter poi donare, quindi chi si è recato all'estero. Questo per evitare che poi il prelievo del sangue che è stato fatto possa poi trasmettere a sua volta eventuali farmaci o eventuali malattie al fruitore della sacca o dei vari emocomponenti che vengono estratti dal sangue stesso. Ancora il sangue serve, sì, ancora il sangue serve ed è giusto donarlo. È giusto donarlo ed è bello donarlo perché chi dona il sangue in effetti in modo particolare lo si dona gratuitamente senza ricevere nulla in compenso, anzi perdendo spesso una mattinata. Nello stesso tempo però tutela se stesso perché facendo la donazione viene sottoposta a tutta una serie di esami virologici, tra cui l'epatite, l'HIV e la cosa bella di Ischia è che avendo, io dico sempre un ortus conclusus, siamo un paese dove ci conosciamo tutti e dove i donatori sono sempre più o meno gli stessi o provengono dallo stesso ceppo familiare o dello stesso ambiente. Per cui abbiamo un sangue, diciamo, doc, di origine controllata, a differenza invece in una megalopoli dove le persone vengono prese oppure dal sangue che si prende all'estero che anche se è controllato il laboratorio però potrebbe avere qualcosa che poi un domani si viene a sapere che quel sangue poteva, ecco, come il sangue africano, no? Dove si fichiavano anche le monoglobuline per fare i vaccini, il siero antitetano e quant'altro, prima dell'HIV veniva trasmesso perché non si sapeva che esistesse questo virus e questa malattia e quindi vedi quanto sia importante poi il controllo del donatore che abbia un modus vivendi e quindi un comportamento certamente da un punto di vista igienico e anche di esposizione a rischi importante per chi lo riceve poi. Si svolgerà dal 6 al 9 ottobre all'Hotel Continental Ischia il VII Congresso Nazionale della Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia. Il titolo scelto per la tre giorni è Amore e Psiche, la dimensione corporea in psicoterapia. Su questi aspetti si sono confrontati i professionisti dei principali approcci psicoterapeutici, alcuni tra i più rappresentativi esponenti della psicoterapia italiana e personalità di primo piano a livello internazionale. Il congresso è stato presentato nel corso di una conferenza stampa indetta dall'Ordine degli Psicologi della Campania nella sede dell'Ordine a Napoli. Vediamo i semizi. La centralità del corpo vista non solo dal punto di vista clinico ma anche antropologico e simbolico. Il corpo inteso come luogo degli affetti e delle relazioni, i cambiamenti della società che lo influenzano attraverso l'affermarsi di modelli relazionali e disfunzionali come la sovraesposizione dei corpi femminili, il primato dell'aspetto estetico, fino alla discriminazione sessuale. Di questi temi e delle potenzialità dell'intervento psicoterapeutico per favorire il cambiamento se ne discuterà nel corso del VII Congresso Nazionale della Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia, la FIAP, che si svolgerà all'Hotel Continental di Ischia dal 6 al 9 ottobre. Il titolo scelto per la Tre Giorni, il cui programma è stato presentato questa mattina nella sede dell'Ordine degli Psicologi della Campania a Napoli, è Amore e Psiche, la dimensione corporea in psicoterapia. Presenti la Presidente Nazionale della FIAP, Maria Luisa Manca, e il Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Campania, Antonella Bozzaotra. La centralità del corpo in psicoterapia è qualcosa che noi, diciamo, già conosciamo nei nostri lavori e nelle nostre pratiche cliniche, ma ora credo che le neuroscienze ci dicano molto e vogliamo assolutamente affrontare questo tema con tutta la psicoterapia italiana. La Federazione Italiana di Psicoterapia è la federazione che riunisce tutti gli approcci. L'Ordine degli Psicologi, come istituzione che si occupa di politica professionale, ha scelto di patrocinare e sostenere questo convegno, di cui siamo molto contenti che la FIAP abbia scelto come location del convegno, quella di Ischia. È stato presentato questo pomeriggio presso la Biblioteca Antoniana di Ischia il libro della professoressa Angela Procaccini Di come donna, evento organizzato dal Garden Club dell'Isola di Ischia. Vediamo il servizio con l'intervista alla Presidente del Garden, Nunzia Sena, e all'autrice Angela Procaccini. Sentiamo. Si intitola Di come donna ed è l'ultimo libro scritto da Angela Procaccini che viene presentato oggi presso la Biblioteca Antoniana di Ischia a cura del Garden Club. Ne parliamo con la Presidente Nunzia Sena. Allora, come dicevo, non è un tema inerente a ProReal Garden, però l'abbiamo voluto presentare, questo libro di Angela Procaccini, perché il tema è la donna, donna con la D maiuscola, donna attraverso le varie sfaccettature di sette storie di donna che abbracciano un poco il percorso di molte donne che soffrono, che hanno problemi, che vivono una realtà di sofferenza, ma non anche di dolore, ma non di disperazione, diciamo convivenza col dolore, e di speranza anche, diciamo, di ricostruire, come dice l'autrice, la loro vita. Quindi un libro molto interessante, molto bello, molto attuale, perché nonostante i vari progressi la donna ancora, e la vediamo tutti i giorni, attraverso i media, soffre tanto, è oggetto anche di violenza ed è scritto molto bene, si legge veramente tutto da un fiato. L'autrice Angela Procaccini, che non è nuova, perché lei ha al suo conto parecchi libri, come nasce questo ultimo libro sulla donna? Allora, dunque, sì, è vero, questo è il mio nono libro, prima però prediligevo la poesia, poi tutta un tratto ho avuto questo desiderio di scrivere, pensando ad alcuni spaccati della vita di alcune donne, toccando temi diversi, dalla bambina violata alla adolescente incerta, alla ragazza noressica, alla donna tradita, alla donna con la perdita grave del figlio, alla tunisina che attraversa il mare alla ricerca della salvezza sulle nostre terre. E, diciamo, è un libro sofferto, indubbiamente, ma è anche un libro liberatorio, perché la scrittura, indubbiamente, è catartica, aiuta a sciogliere il groviglio che abbiamo dentro di noi. Per me è stata fondamentale i momenti difficili della mia vita, mi ha aiutato, mi ha aiutato tantissimo. Presentarlo qui a Ischia è un'emozione maggiore, perché io amo quest'isola, l'ho amata e la amo in maniera proprio incondizionata. è un'isola che ho conosciuto per lavoro e poi non l'ho più lasciata, perché, appunto, è un'isola forte e dolce contemporaneamente, un po' come la creatura femminile che è forte e dolce insieme. Gianni Sasso, lo straordinario atleta che non conosce ostacoli, è arrivato a gareggiare alle Paralimpiadi di Rio 2016, nonostante due delicate operazioni subite per la frattura del bacino e della caviglia. La cosa incredibile è il fatto che anche per un normo dotato che viene operato all'anca c'è un alto rischio che le viti inserite nell'arto possano scoppiare, cosa che non è successa all'atletico olimpionico nonostante i durissimi allenamenti sostenuti per giungere a Rio. Vediamo il servizio di Gennaro Savio. In queste ultime settimane, in seguito alla sua partecipazione alle Paralimpiadi di Rio 2016, è stata raccontata tutta la vita di Gianni Sasso, lo speciale atleta olimpionico dell'Isola d'Ischia che senza la gamba sinistra da anni strabilia le platee di tutto il mondo con le sue straordinarie imprese sportive, nel calcio, nella corsa, nel nuoto e nel ciclismo. Soprattutto è stato sottolineato che dopo il drammatico incidente che a 16 anni lo primò per sempre della gamba sinistra, grazie alla sua grande forza di volontà, è oggi uno degli atleti più completi e più forti al mondo. In pochi però sanno che Gianni, tra il 2010 e il 2013, ha subito due altri incidenti stradali che avrebbero messo in ginocchio chiunque, visto le delicate operazioni chirurgiche a cui è stato sottoposto all'anca e alla caviglia. Per avere contezza della delicatezza degli interventi subiti agli altri fratturati, abbiamo intervistato il dottor Sergio De Rosa, il chirurgo ortopedico che per ben due volte lo ha operato presso l'ospedale a Narizzoli di Laccamino. Sì, come sappiamo, Gianni, da parte il grave infortunio che ebbe da giovane nel quale perse l'arto inferiore, l'unico arto rimasto e subì una frattura prurima della caviglia, fu operata con delle viti e dei fili d'acciaio e già da allora poi ebbe una miracolosa ripresa anche sportiva tanto che poi sta per i nuovi record. Questo nel 2010. Nel 2013 poi sfortuna volle che fratturò il moncone dell'arto inferiore amputato al tempo e fu sottoposto a un nuovo intervento chirurgico dove vennero messe due viti in titanio per stabilizzare questa frattura. Nonostante anche questo secondo infortunio lui riprese praticamente ai tempi record tanto è vero che ricordo in un momento che dovette cominciare a provare le protesi quelle di altissimo profilo tecnico che usano oggigiorno tutti gli sportivi di quel livello e che per fortuna anche i medici della federazione si meravigliano di questa sua pazzesca capacità di recupero fisico. Appuntamento a teatro per il ciclo delle commedie rappresentate a Dischia dopo il telegiornale trasmetteremo la commedia in tre atti di Antonio Petito a Cannunate e Miss Jorn portata in scena al teatro del Polifunzionale dalla compagnia Attori per Caso appuntamento quindi a tra poco dopo il TG con le successive repliche la trasmissione può essere eseguita sia in digitale terrestre che in streaming con PC tablet o smartphone ed in chiusura lo sguardo al meteo per la giornata di domani tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso farà più freddo per l'arrivo di aria proveniente dalla Russia quindi temperature in diminuzione venti moderati da nord-est mare mosso grazie per averci seguito vi lascio quindi con il teatro la commedia di Antonio Petito e noi ci vediamo come sempre all'edizione delle 14 arrivederci grazie a tutti